Hey la! Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a tutti e benvenuti nel mio nuovo canale. Allora, in questo video vi volevo parlare di questo prodotto, Schultz, Camamilla Schultz dal 1900, che non mi hanno spedito ma ho comprato da mia spontanea volontà. E niente, siccome con questo prodotto sono riuscita a schiarirmi i capelli, più o meno, volevo parlarne anche con voi, però mi raccomando ricordatevi di guardare il video precedente, e di lasciare un bel like e anche a questo video, di scrivere qui sotto nei commenti e di iscrivervi al canale. E ora vi lascio il video. Allora, come premessa vi volevo dire che qui c'è scritto per capelli chiari. Allora, constatiamo che i miei capelli non sono per niente chiari, però sta funzionando lo stesso. Questa è la seconda bottiglietta che sto utilizzando, quindi ho appena iniziato la terapia. Allora, qui vi lascerò il video in seguito a questo, di come si applica. Ogni volta, dopo il vostro lavaggio dei capelli, stanno schiare. Come potete vedere, non lo so se potete vedere, al sole comunque si vede che qui sotto sono molto più chiari di qui sopra. E poi comunque credo che continuerò finché il risultato che otterrò non sarà quello che voglio. Insomma, ecco, questo prodotto mi sta piacendo tanto, anche perché non mi rovina i capelli, cioè non mi fa diventare crespi, perché io sto utilizzando anche il balsamo. E quindi utilizzando il balsamo i miei capelli non diventano crespi nella zona in cui applico il prodotto. E quindi sono molto soddisfatta e niente, vi lascio al video. Ciao! Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un bel pollice in su e di guardare il video precedente. E io vi mando un bel bacio e ciao a tutti e alla prossima!